E' uno sconosciuto, vogliamo farlo dormire in casa nostra. Passiamo il nostro tempo qui. Voglio che diventi un paradiso. L'ha rimessa su tutta lei, ogni singolo dettaglio. E ha ridato vita a ogni singola stanza. Sei felice? Ti amo. E' uno sconosciuto, vogliamo farlo dormire in casa nostra. Salve? Salve! Sapevi che aveva una moglie? Adel, le foto tue nella valigia. Perché hai guardato nella valigia? Che cosa vogliono? Dio ti aiuti. Sono venuti per vedere me? Vieni presto! Tu sei pazzo? Sei pazzo? Cerco solo di portare un po' di vita in questa casa. Di aprire la porta a nuova gente, a nuove idee. Mi dispiace tanto. Fuori da casa mia! Fuori! Dare, dare, dare. Non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza. Nooo! No! Grazie per la visione!